Adesso voglio la verità e capire il perché dell'ingiustizia subita. Sono le parole di Gianni Moscherini, oramai ex presidente della società di gestione del porto di Balestrate, la Marina SRL, all'indomani della scarcerazione dalla detenzione domiciliare a cui era sottoposto da diverse settimane a seguito dell'arresto con l'accusa di tentata estorsione per fatti legati al porto di Civitavecchia. Non ho mai minacciato nessuno né tantomeno estorto mai nulla, ha detto con amarezza nel corso di una conferenza stampa che lo stesso Moscherini ha convocato, ora voglio capire chi c'è dietro al mio arresto, forse il desiderio di vendetta di qualcuno. Parole esibilline da parte dell'ex sindaco di Civitavecchia ed ex presidente dell'autorità portuale della stessa città, oggi molto conosciuto anche a Balestrate per avere con caparbietà portato avanti un lunghissimo iter per l'assegnazione della gestione del porto del paese al culmine di un braccio di ferro con la regione e non solo. L'ordinanza di arresto del GIP di Civitavecchia è stata annullata dal tribunale del riesame. Secondo l'accusa, oggi quindi completamente caduta, Moscherini avrebbe sollecitato l'autorità portuale di Civitavecchia ad intervenire abusivamente per favorire l'acquisto, per un importo compreso tra i 20 e i 23 milioni di euro, di una cava di proprietà di una società viterbese nell'ambito dei lavori di realizzazione della nuova d'Arsen a Traghetti all'interno del porto. Pochi giorni dopo l'arresto lo stesso Moscherini venne immediatamente sostituito all'interno dell'organigramma della Marina di Balestrate SRL è stato designato come amministratore unico Renato Marconi, imprenditore e azionista di maggioranza della Marina di Balestrate. In queste settimane si sta portando avanti il lavoro per permettere l'apertura del porticciolo turistico balestratese ma già rispetto al cronoprogramma fissato è stato deciso uno slittamento. Apertura non più il 15 aprile, come era stato annunciato sul sito internet della società, ma slittata a maggio per i primi 150 posti barca. L'ingresso il mese prossimo sarà consentito alle piccole imbarcazioni fino a 6 metri di lunghezza per poi andare a regime con quelle più grandi. Dai primi di luglio vi sarà la possibilità di ormeggio per imbarcazioni fino ai 14 metri. Sono in corso le selezioni per il reclutamento di personale per il fronte d'esca e per la banchina sottolineano dalla Marina SRL e la gara per l'assegnazione dei lavori di prima fase. L'esecuzione dei lavori avverrà compatibilmente con l'ottenimento delle autorizzazioni tecniche sul progetto esecutivo, già richiesta agli organi regionali e previste in concessione.